che inizia adesso, tra poco sarà recupero, parte il cross di Cagliacone in mezzo, Coulibani! Il Napoli è in bambino! Il Lugani rimane in retratto quadrato, parte attraverso l'inmezzo, Perico ha segnato la Juventus, Gonzalo Higuain, esattamente al minuto 44 nel corso del secondo tempo, la Juventus è passata in vantaggio colpivita, la Juventus non muore, letteralmente, mai! Grazie!